Siamo in pieno conflitto mondiale, qualcuno se ne preoccupa e cerca di capire cosa stia succedendo, qualcun altro non se ne preoccupa e è molto invece attento all'andamento del campionato, noi però cerchiamo di preoccuparci e a nostro giudizio per cercare di capire che cosa stia avvenendo, è importantissimo, accende i riflettori su un fenomeno spesso dimenticato ma che invece è centrale proprio nella vicenda di questa, chiamiamola così terza guerra mondiale, cioè la dedollarizzazione, ne parliamo stasera con il dirigente nazionale responsabile del Dipartimento Economia di Ancora Italia Roberto Antoniarelli, ciao Roberto Ciao Ciao Roberto, sei arrivato un po' in ritardo con l'audio, anche la tua immagine vedo che è bloccata, speriamo che il collegamento internet non ci dia problemi anche stasera e ne parliamo anche con il saggista, esperto di economia che ci parla della cripta, della resistenza come al solito, dalla sua personale cripta, della resistenza, Cosimo Massaro Ciao caro Arturo, grazie di cuore per avermi invitato, saluto te e tutti coloro che avranno il piacere di seguirci Grazie Cosimo per essere qui, Roberto vuoi farci qualche cenno storico, vuoi farci capire di che cosa si tratta quando si parla di dedollarizzazione ma poi insomma in prima battuta che cos'è la dollarizzazione? Ma sì, ci sono vari percorsi che potremmo utilizzare per affrontare questo problema, potremmo partire, percorrere diciamo delle tappe di evoluzione storica, quindi passare dalla concezione monetaria che ruotava attorno alla parità aurea, il cosiddetto gold standard per arrivare poi ai passaggi successivi del superamento della parità aurea, per arrivare a Bretton Woods, per arrivare al superamento degli Stati Uniti, della Federal Reserve della parità aurea e per arrivare poi alla situazione attuale, ma io preferisco come d'abitudine cercare di affrontare il problema nelle sue cause principali. Io credo che il problema della dollarizzazione, della dedollarizzazione non sia un problema di natura tecnica ma sia un problema di natura squisitamente politica e quindi parto dalla politica e parto da lontano, parto dal concetto di imperialismo. Allora voi mi direte ma cosa c'entra l'imperialismo con la politica monetaria? Beh, io penso che questi fatti, la politica monetaria di oggi sia strettamente collegata, sia un episodio inquadrabile nella logica dell'imperialismo. Imperialismo cos'è? L'imperialismo è quel atteggiamento, quella volontà di espropiazione economica patrimoniale di uno stato ai danni di un altro stato oppure di una nazione, se volete, ai danni di un'altra nazione. È una storia che è antica come il mondo, voi capite che l'imperialismo andando indietro nei millenni c'è sempre stato, anzi una volta era la regola, la regola non c'era neanche bisogno di trovare delle giustificazioni, era una normalità farla, esercitarla. L'imperialismo è passato attraverso diverse fasi ma ha mantenuto inalterate le caratteristiche del fatto della espogliazione di uno stato rispetto all'altro e del fatto che questa espogliazione avveniva manumilitari, veniva esercitata con la forza. Per cui possiamo ricordare un imperialismo antico, quello ad esempio del più famoso di tutti, l'impero romano è diventato un grande impero, Roma conquistava per la grandezza di Roma un territorio, ne spogliava tutte le ricchezze e poi in un secondo battuta imponeva delle gabelle, un servizio di carattere, un onere di carattere fiscale. Questo è l'imperialismo antico, siamo passati poi ad un imperialismo nel corso dei secoli moderno, nel quale mantenendo le solite caratteristiche della forza e dell'espogliazione, il meccanismo di appropriazione delle ricchezze del paese conquistato avveniva attraverso il controllo dei traffici commerciali. L'esempio più famoso di tutti è quello inglese della compagnia dell'India, ma è un fenomeno, è un retodo che è stato ripetuto anche in altri casi, in altri paesi. Da ultimo arriviamo a che cosa? All'imperialismo postmoderno che è quello attuale dove sempre mano militare, quindi il controllo e il trasferimento di ricchezze da un'area ad un'altra area e l'espogliazione avviene attraverso cosa? Avviene attraverso l'imposizione di una moneta. Quindi ecco perché l'ho preso su da lontano per dire il fenomeno quindi va visto in primis quello della dedollarizzazione in quello della dollarizzazione. Come è stato possibile arrivare a creare la dollarizzazione? Ecco io penso di aver dato una spiegazione. Roberto, ti faccio solo presente che la tua telecamera è rimasta fissa se vuoi provare ad uscire, a rientrare con lo stesso link magari la tua telecamera si riattiva. Intanto abbiamo sentito perfettamente, però purtroppo sei rimasto immobile, ma non ti preoccupare. Prova a uscire, rientrare, magari riusciamo anche a vederti. Non avete perso nulla, non ti preoccupare. Non avete perso niente. Vado da Cosimo perché intanto vado da Cosimo perché ecco Roberto ha dato un ottimo spunto a cui potrei aggiungere che in realtà l'importanza della moneta c'è sempre stata anche nel mondo antico. Io ricordo ad esempio la grande operazione monetaria di Filippo il Grande, Filippo II il Macedo, nel quale sconfisse la Grecia antica in modo particolare la potenza ateniese, proprio battendo moneta d'oro e distruggendo l'egemonia della dracma argente ateniese. Così poi il figlio Alessandro Magno, man mano che conquistava la Persia, conquistava una satrapia dietro l'altra e requisiva tutto l'oro, lo fondeva, stampava nuove monete, pagava i soldati. Insomma la moneta precedeva l'esercito, per cui sì è vero c'era una avanzata militare ma che era preceduta da un'avanzata monetaria. Quindi insomma l'importanza della moneta perché vi sia un'unità imperiale direi che ha una storia antica Cosimo. Tu cosa sai dirci al riguardo? Allora sicuramente così la moneta ha avuto sempre un ruolo fondamentale nella conquista degli imperi però questo ultimo impero nasce, impero economico monetario, ricordiamocelo sempre nasce con la costituzione della banca d'Inghilterra 1694. Da quel momento in poi si sono impostati tutti i sistemi economici monetari con delle banche centrali nazionali e come dire con un'emissione di moneta emessa a debito che comunque ha avuto per vari secoli sempre comunque una convertibilità in parte con l'oro e tutto il mondo è diventato una colonia monetaria poi il classico Commonwealth quindi l'impero della moneta debito. Naturalmente nelle varie vicissitudini storiche per capire la dollarizzazione che è l'atto finale diciamo di questo imperialismo avviene con gli accordi di Bretton Woods che nascono verso la fine della seconda guerra mondiale. Che cosa accade? In quel periodo oramai i commerci si erano allargati a dismisura. La transiberiana, il canale di Suez, gli aerei, la scoperta del petrolio e c'è tutta la chimica del petrolio, i commerci che si allargavano a dismisura. Come dire una moneta ancorata solo esclusivamente all'oro cioè con tutte le monete nazionali era molto complicata da gestire un'economia globale e globalizzante. A quel punto con quegli accordi si decise cosa? Le nazioni vincenti decisero a tavolino con quegli accordi che l'unica moneta al mondo che poteva essere convertita in oro dovesse essere il dollaro. A quel punto tutte le nazioni dovevano avere come base prima il dollaro e in seguito eventualmente convertire in oro. Quindi l'unica moneta al mondo convertibile in oro era il dollaro. Questi accordi rimasero fino al 1971 quando in quegli anni dalla fine della seconda guerra mondiale al 1971 gli Stati Uniti d'America come dico sempre come forma di battuta stamparono più dollari che giornali. Che cosa accade? Avevano infestato il mondo di dollari non coperti da oro come se avessero emesso a segna vuoto in pratica. Alcuni presidenti se ne accorsero di questa truffa tra cui soprattutto il presidente francese De Gaulle che incominciò a cambiare enormi quantità di dollari li portò a Fort Knox sacchi interi e se li fece convertire in oro. Cosa accade? A quel punto se tutti avessero le tutte le nazioni avessero fatto la stessa cosa l'oro di riferimento non c'era e quindi Richard Nixon il 15 agosto del 1971 decretò la fine degli accordi di Bretton Woods. Quindi da quel momento nasce un'altra tipologia di moneta. La moneta fiat. La moneta creata dal nulla esclusivamente a debito senza nessuna copertura di nessun genere senza nemmeno un collegamento con un'economia reale se vogliamo. L'unico modo per ancorare poi il dollaro e mantenere l'egemonia del dollaro a livello planetario e quindi sfruttare gli altri popoli attraverso il signoraggio della moneta dollaro a livello planetario che cosa fecero? Stabilirono degli accordi con i paesi arabi in testa fra tutti l'Arabia Saudita. Si collegò il dollaro al petrolio quindi il petrolio a livello globale mondiale si poteva vendere esclusivamente in dollari col presupposto che gli Stati Uniti in America avrebbero difeso l'Arabia Saudita avrebbero venduto però appunto i paesi come l'Arabia Saudita e i più grossi fornitori di petrolio avrebbero venduto esclusivamente il petrolio solo in dollari. Lì nasce il petrodollaro, il dominio appunto non solo del dollaro ma anche dell'egemonia globale nel mondo del dollaro attraverso la vendita del petrolio quindi sappiamo effettivamente che l'economia attuale e tutto ciò che gira attorno è basata sul petrolio. Ora però arriviamo alla tematica di oggi la dedollarizzazione siccome la guerra sul piano economico monetario che prima di quello militare si sta perdendo appunto quel potere dell'egemonia del mondo unipolare nei confronti del resto del mondo sta avvenendo un vero e proprio scontro tra il mondo multipolare e il mondo unipolare. Il mondo multipolare sta incominciando non solo i BRICS ma altri paesi anche che non fanno tuttora parte dei BRICS stanno scambiando le loro merci con le loro valute nazionali quindi bypassando il potere e l'egemonia del dollaro. Ecco dove sta la dedollarizzazione del pianeta. Nel momento in cui gli Stati Uniti non riescono più a incidere con la loro moneta e obbligare gli altri stati a vendere le loro merci e non solo il petrolio con il dollaro vediamo che si perde e perdono egemonia globale e perdono potenza. Quindi cosa stanno facendo? Per riacchiappare questo potere stanno cercando di portare e spostare il conflitto a livello planetario a livello di guerra militare. Ora mi fermo qui come prima presentazione diciamo quindi l'effetto della dedollarizzazione del pianeta sta scatenando una guerra militare. In un secondo intervento Arturo spiegherò ulteriori cose che stanno accadendo molto gravi. Un altro accenno però faccio perché sta avvenendo diciamo il processo di dedollarizzazione del pianeta. La rabbia saudita è passata con i BRICS. C'è con lei che manteneva in piedi il petrodollaro è passata ai BRICS. Quindi stanno vendendo il petrolio con altre valute come sta facendo anche la Russia. Nel momento in cui crolla il petrodollaro in automatico crolla il dollaro in automatico crolla l'impianto della moneta fiat. C'è tutte le altre monete collegate al dollaro tra cui euro, sterlina, franco svizzero, il franco francese CFA. C'è tutte le monete collegate alla moneta fiat e al circuito swift di loro controllo, cioè di loro costituzione e al loro servizio. Completo qui poi magari con qualche altra domanda se vogliamo Arturo approfondiamo queste tematiche perché si collegano molto bene col conflitto attuale che sta in corso a livello planetario di cui parlo tanto anche nel mio nuovo libro, il tempo, scusami, il bivio epocale. Il bivio epocale è il prossimo libro in uscita. A questo punto vuoi anche dirci più o meno quando uscirà, già che l'abbiamo citato? Faremo di tutto per farlo uscire per la prima settimana di maggio, anche perché poi a maggio avrò un tour di due settimane e lo porterò in giro per l'Italia. Ora lo vediamo il bivio epocale in uscita a maggio, insomma Cosimo. Vien da dire che noi con l'euro già andavamo male quando il dollaro era forte, non oso immaginare come andremo di qui avanti. Magari dopo facciamo anche qualche analisi su quello che potrà accadere. Comunque tu hai giustamente messo in evidenza come venuto o meno il bene di riferimento del dollaro, quindi il petrolio in quanto l'arriba suddita e tutti poi i paesi arabi tendenzialmente stanno andando verso i BRICS, le grandi materie prime che sostenevano questa moneta si sono si sono dileguate. Roberto, quali sono le cause che hanno portato a questo bivio, come lo chiama Cosimo, secondo te? Ma guarda, secondo me sono ovviamente molteplici, ma bisogna considerare che il quadro di riferimento globale è cambiato enormemente in questi ultimi anni e non si può ignorare che parlando ancora degli effetti della dollarizzazione ha prodotto un cambiamento che oggi si riscontra poi nella realtà dei rapporti tra le nazioni. In particolare, come diceva giustamente Cosimo prima, gli Stati Uniti hanno stampato più dollari che non è il periodo antecedente soprattutto nel periodo compreso tra Bretton Wood e l'inizio dei petrodollari, insomma dell'accordo che ha legato il dollaro al petrolio. E questo ha prodotto ovviamente un'occasione di acquisizione di ricchezza con grande facilità, cioè il mondo occidente, gli Stati Uniti in particolare, ma il mondo occidentale in generale, ha goduto di una rendita di posizione che sicuramente gli ha fatto piacere, era uno dei suoi obiettivi, ma è stato anche un'occasione di profonda ristrutturazione della propria apparato economico, della propria struttura economica. È successo, mutatis mutandis, è successo quello che successe negli anni del XVI secolo e di XVII secolo in Spagna, dove a valle della scoperta del nuovo mondo, la Spagna si ritrovò beneficiata di un flusso di ricchezza, di proporzioni inimmaginabili e che ha condizionato tutta la sua struttura economica produttiva. Parliamo del periodo del Rinascimento, quindi non è che ci fosse un'industrializzazione, però la struttura c'era. In quegli anni lavorare o fare commercio o fare l'artigiano o fare l'agricoltore non conveniva, conveniva fare il soldato per gli spagnoli perché di soldi ce n'erano a disposizione, una quantità enorme e quindi il paese si è de-economicizzato, tra virgolette, nel senso che in termini produttivi ha perso la capacità di produrre ricchezza. Ecco questo fenomeno è avvenuto e stava ancora avvenendo, ma è avvenuto soprattutto negli Stati Uniti ma anche in Europa. Noi lamentiamo sempre la finanziarizzazione dell'economia, è lo stesso risultato, è la stessa conseguenza, non conviene più esercitare un'attività manifatturiera, conviene di più fare speculare in borsa con i titoli e con le monete eccetera. Quindi questo cosa ha comportato? Ha comportato che oggi le economie dei paesi occidentali in termini manifatturiere sono molto ridotte rispetto a quelle che erano negli anni 40 e 50. Le difficoltà che stanno avendo adesso in Ucraina con la produzione delle armi, delle munizioni che non riescono a produrre in quantitativi sufficienti è un sintomo di questo stato di cose. Oggi le economie dei paesi occidentali sono improntate a svolgere delle attività di carattere finanziario e quindi speculativo finanziario e quindi oggi come oggi si troveranno in difficoltà. Questo in una situazione di diciamo di dedollarizzazione, quindi di caduta della fonte di ricchezza poi creerà dei problemi enormi. Dei problemi enormi perché? Perché le strutture, le economie dei paesi interessati non sono in grado di poter affrontare una situazione non prevista e non prevedibile. Giustamente Roberto pone l'accento sulla deindustrializzazione quale possibile o una delle possibili cause della dedollarizzazione. Noi hai fatto anche un bel esempio sulla Spagna del 6-700 perché noi di Ancora Italia in particolare qui proprio su Ancora Italia TV spesso lo abbiamo ricordato che il fenomeno avvenuto nella seconda metà del Novecento è molto simile a quello avvenuto dopo diciamo la cosiddetta scoperta dell'America, l'inizio dello sfruttamento dell'America perché come allora i capitali della grande finanza hanno investito sugli Stati Uniti creando sostanzialmente quel mostro che poi si è mangiato l'Europa e il mondo e negli ultimi 50 60 anni ormai anche 70 anni le grandi multinazionali, le grandi banche hanno sempre di più investito in quelli che oggi sono i paesi BRICS soprattutto in quelli asiatici finché pian piano li hanno resi competitivi e più forti degli Stati Uniti stessi per cui gli Stati Uniti sono visti costretti le imprese statunitense a de-localizzare quindi de-industrializzarsi fino ad arrivare a un punto di non ritorno che è quello che noi vediamo. Ci sono tante domande alcune delle quali le rimando magari verso la chiusura cioè qual è la posizione di Ancora Italia ad esempio all'interno di questo vero e proprio conflitto mondiale Cosimo però prima di andare innanzi con le cose che tu avevi annunciato di voler approfondire una cosa devo chiedertela perché il nostro pubblico giustamente dice va bene il dollaro è un moneta fiat abbiamo riassunto adesso brevemente come è nata la banca centrale americana emittente moneta fiat e non moneta collegata a un bene reale però ecco non è che dalle altre parti ci siano banche diverse penso alla Russia dove la banca Rothschild è ancora presente la Cina eccetera per cui c'è questa abissale differenza oppure come stavo suggerendo io è semplicemente un passaggio di poteri cioè una finanza che essendo apolide quindi per definizione deve ogni tempo spostarsi e andare a colonizzare nuove terre allora guarda con questa domanda allarghiamo veramente la tematica però dobbiamo mettere dei punti fermi parliamo e partiamo da un presupposto continuiamo un attimo col discorso della dedollarizzazione nel momento in cui il mondo unipolare sta perdendo potere il dollaro sta perdendo potere il petrodollaro oramai è caduto gli stati uniti d'america in questo momento storico fanno un'enorme fatica a piazzare i loro titoli del debito pubblico in giro per il pianeta cioè li stanno acquistando sempre meno nel momento in cui vengono acquistati meno i titoli del debito pubblico devono necessariamente alzare gli interessi questo è il cane che si morde la coda nel momento in cui alzano gli interessi abbiamo una crescita esponenziale del debito pubblico americano per dire che era già uno dei debiti pubblici più alti al mondo c'è più l'economia è alta col sistema moneta debito più di pari passo è alto il debito pubblico e a questo punto vediamo che arriva un collasso interno un collasso interno che ogni volta si deve riunire il congresso americano per alzare la soglia del debito se non vanno in default primo presupposto da chiarire si stanno tirando ulteriormente la zappa sui piedi il mondo occidentale c'è quello globalista luciferino come lo intendo io non quello occidentale della tradizione che cosa accade se tutti dicono molti dicono che tutto fa parte del gioco ma questo ne ho scritto già io oltre dici anni fa quando si stava spostando l'asse verso la cina perché è voluto da loro far crescere la cina in un determinato modo sono stati portati i denari sono state portate tecnologie quindi con la globalizzazione la cina è cresciuta e ha depotenziato l'occidente ha depotenziato commerci che arrivavano a bassissimo costo ma il processo di globalizzazione è stato solo una tappa dell'imperialismo del globalismo una cosa il globalismo nuovo ordine mondiale una cosa è la globalizzazione la globalizzazione ha finito la sua il suo percorso soprattutto dopo la pandemenza si è visti che oramai non si riusciva più ad andare avanti perché non si produceva più niente all'interno le ciambelle non escono sempre col buco i piani del nuovo ordine mondiale a livello planetario non sono andati bene quindi dei contrasti si sono messi a questo punto non voglio dire che dall'altra parte sia tutto rose e fiori però noi dobbiamo sfruttare sicuramente il periodo storico e capire che in questo momento di dedollarizzazione del pianeta dove tante altre nazioni stanno scambiando le loro merci attraverso le loro valute nazionali questo dovrebbe essere una crepa del sistema globalista che ci dovrebbe permettere ci potrebbe permettere di infilarci all'interno e per come dire stampare una moneta nazionale non è messa a debito magari non la chiamiamo moneta non la chiamiamo banconota dato i trattati la potremmo chiamare stato nota come abbiamo detto tante volte anche con galloni direttamente dal tesoro dato che non possediamo nemmeno la banca centrale che non è nostra quindi non è messa a debito e potremmo incominciare quel processo che arriva verso la sovranità monetaria mi ricollego ora alla russia perché qualcuno ha chiesto nel senso la russia oggi potrebbe essere dominata anche dai rossi no non è proprio così perché la banca centrale russa si è scollegata dal potere dei rossi in questo preciso momento storico e che cosa ha fatto dopo che ha subito l'embargo attraverso la chiusura del circuito swift si è autofinanziata collegando il rublo alla alle proprie merci oro argento petrolio quindi quando questa moneta viene rappresentata da dei beni reali in questo caso la poterla possiamo identificare come moneta merce cioè come quando anche c'era la moneta che rappresentava l'oro una moneta merce che va bene anche per un periodo cioè tu la rappresenti con dei beni reali però per arrivare al concetto di sovranità monetaria reale anche di concetto auritiano bisognerebbe stampare una moneta anche secondo un concetto fiat cioè creata dal nulla ma non creata dal nulla dai banchieri che non la garantiscono con niente perché fanno i tipografi un popolo quando si dice che è sovrano tra virgolette che possiede la corona in testa può emettere anche la propria moneta fiat creata dal nulla nel giusto equilibrio come il sangue perché la moneta è il sangue di un'economia di un sistema organico nazionale che però rappresenti non solo i beni reali oro argento petrolio e tutto ciò che magari può possedere uno stato ma che rappresenti tutta la ricchezza di un popolo nella sua complessità quindi beni culturali beni storici sapienza saper fare ingegneria perché tutto questo è come dire ricchezza di un popolo momentaneamente la russia si è scollegato da quel discorso quindi non ci troviamo in un concetto di guerre del passato come anche la prima o la seconda guerra mondiale o quelle antecedenti anche quelle napoleoniche quando i rossi il facevano la classica frase dei ro di un rossi del capo stipile diceva noi dobbiamo dirigere conferenze di pace ma fa scatenare le guerre come dire mettere le nazioni in conflitto in modo che sprofondino sotto i nostri debiti e nessuno abbia veri guadagni territoriali ma fondamentalmente sono tutte e due le nazioni tutte le nazioni sotto la schiavitù del debito in questo caso con la russia non è accaduto questo perché la russia si è autofinanziata non con i soldi dei rossi si autofinanziata col suo sistema che ha messo in piedi da dopo il momento in cui hanno fatto l'embargo gli hanno chiuso il circuito swift questa cosa è andata e sta lo scrissi nel un secondo dopo che hanno attuato questo questo diciamo questo blocco alla russia ho detto quello sarà un boomerang che ci tornerà indietro e così è stato perché uno le istituzioni nazionali cioè scusate le istituzioni sono nazionali hanno perso come dire la loro credibilità il circuito swift ricordo che un circuito in mano ai rossi la rockefeller è un circuito dove naviga la moneta fiat se noi possediamo la sovranità monetaria ma non abbiamo anche la sovranità dei circuiti della circolazione monetaria questo è un handicap molto potente per una nazione che si vuole professare sovrana a questo punto la russia ha incominciato a commercializzare con altri paesi come la cina come l'india e quindi tutti questi paesi si stanno scambiando merci fra di loro anche attraverso ulteriori circuiti che stanno creando bypassando anche il circuito swift che ricordiamo bene chiuso del circuito suizio a benedetto sedicesimo e poi l'hanno costretto le dimissioni ma putin si era preparato alla battaglia economico monetaria quindi si era preparato a bypassare pure quel circuito tant'è vero che subito dopo che hanno fatto l'embargo economico monetario chiudendo circuito swift swift a putin che cosa ha fatto bene oggi volete il mio gas me lo potete pagare anche in rubli se volete perché gli accordi e contratti erano stati stipulati in dollari e in euro e mi ricordo che in quel periodo si incazzarono gli oligarchi occidentali cioè i draghi di turno e tutto il resto come i contratti sono stati fatti in dollari e in euro come che tu oggi voglio dire non vuoi che ti li paghiamo così sicuramente era una cosa talmente semplice per quale motivo putin non voleva farseli pagare perché se li pagavano se avessero pagati in dollari oppure in euro sarebbero rimasti bloccati nelle banche occidentali quindi i denari non sarebbero arrivati in russia questo lo capisce pure un bambino e quindi disse va bene se volete me li potete pagare in dollari in euro ma me le versate nelle mie banche me li portate a quel punto putine dice va bene io ti posso vendere ti posso vendere pure il mio gas me lo paghi in rubli dove si compravano i rubli si compravano in russia alla banca centrale russa con un aumento del 30 per cento di interessi quindi guadagnò all'epoca sia sulla vendita del rublo e sia sulla vendita del gas tant'è vero che poi ci siamo dati la zappa sui piedi e abbiamo visto impennare anche i costi delle energie elettriche di tutto il resto perché come dire stiamo distruggendo ulteriormente l'economia interna in occidente soprattutto quella europea perché quella europea si sta deindustrializzando come diceva bene prima per mantenere in piedi l'industria americana l'europa vado in conclusione con quest'altro fatto si sta anche sta perdendo il potere l'egemonia che aveva nelle colonie africane faccio un solo esempio il niger dopo il golpe che è accaduto ha bypassato anche il franco francese perdere una colonia per la francia come il niger significa non poter comprare più l'uranio a basso costo perché era una sua come dire una sua colonia a questo punto nel momento in cui non si può comprare più l'uranio a bassissimo costo la francia per fare andare avanti le sue 50 centrali nucleari gli tocca comprarlo sul mercato a dei costi molto molto più elevati questo farà sì che aumenterà la corrente elettrica di cui anche l'italia si fornisce dalle centrali nucleari francesi e avremo un ulteriore aumento dei costi anche in italia per queste ragioni quindi queste guerre sono tutte collegate sono mille tentacoli di una grossissima piovra che non sono escluse l'una dall'altro quindi ora il processo che sta avvenendo di del polarizzazione il processo del mondo multipolare che sta scambiando le proprie merci i propri servizi per conto proprio è un dramma enorme per il mondo unipolare quindi non gli rimane altro che scatenare una guerra militare di stampo globale l'ultima sponda che gli rimasta è questa e stiamo vedendo che tutti i giorni stanno scatenando scintille per farla scoppiare grazie a putin che sta mantenendo e grazie anche gli altri paesi che oggi sono coinvolti nelle continue provocazioni non ultima quelle di israele che ha bombardato un'ambasciata voglio dire in un paese straniero cosa che avrebbe fatto scatenare il putiferio se l'avessero fatto loro sembra che non ha fatto niente cioè tutto viene concesso stanno mantenendo ancora la barra dritta perché non si vogliono accusare cioè non si vogliono prendere la colpa di far scatenare una terza guerra mondiale sono i globalisti che stanno cercando in tutti i modi di fare questo e sono sempre gli stessi quelli che lanciano sasso e nascondono la mano bravissimo nella storia li abbiamo già visti operare ampiamente soprattutto negli ultimi 200 anni ma per chiudere un attimo il discorso sulla Russia che poi magari invece riaprirò la fine per rispondere proprio alla domanda cioè di qual è l'atteggiamento di Ancora Italia nei confronti di questo conflitto però è possibile dire sobestemmio Cosimo correggimi se sbaglio però è possibile dire che la situazione bancaria russa oggi sia in qualche modo simile alla riforma bancaria del 36 c'è la nostra riforma bancaria del 36 una riforma ibrida che diciamo cerca in qualche modo di smarcarsi da quella che è l'egemonia totale delle banche centrali ma pur rimanendo comunque in qualche modo legata appunto perché la fase bellica non si è conclusa e lo sganciamento effettivo si può avere solo a conclusione dello scontro militare poi alla fine allora Arturo dici benissimo che cosa sta accadendo siccome il sistema economico finanziario era già collassato da anni la tappa finale del collasso è stata quando con i multisuppri nel 2008 ci fu l'enorme crisi poi il quantitative easing delle banche centrali che hanno immesso sul pianeta una massa monetaria spropositata di moneta non coperta da beni reali con Galloni quando ne parlavamo sembrava che ci fosse oramai 50 volte di più massa monetaria rispetto al pil di tutto il pianeta quindi un collasso totale non a caso forse anche la pandemia è servito a riequilibrare questo l'hanno scatenata apposta ora che cosa voglio dire con questo naturalmente la Russia ebbe ancorando a un bene reale la sua moneta sta dando una sostanza non a caso le economie dei paesi voglio dire del mondo multipolare sono in continua crescita stanno crescendo del 3 del 4 per cento del 5 per cento stanno acquistando enormi quantità di oro pure per come dire rinforzare dare solidità alle loro strutture cioè noi dobbiamo comprendere che il mondo occidentale è in netta crisi non abbiamo una crescita crescita è pari a zero non ci potrà essere nessuna crescita le finanziarie che fanno sono meno di zero non partoriscono manco un topolino è chiaro quindi da questo punto di vista dobbiamo comprendere che chi sta al collasso siamo noi tant'è vero che nel momento in cui putin fece quelle manovre monetarie nei confronti delle sue aziende cioè per rinazionalizzare gli asse strategici nazionali russi beh dobbiamo comprendere che poi gli stessi e come dire finanziatori hanno incominciato a investire lì in queste strutture più solide cioè in pratica gli stessi finanziatori o chi voglio dire gestisce la finanza e più come dire ha più certezza di investire nell'economia russa che non in quella americana o in quella europea perché sanno benissimo che sta crollando e lo vediamo quotidianamente le nostre economie ripeto occidentali stanno al disastro completo poi voglio dire la guerra è ancora in atto a parer mio la guerra economico monetaria l'ha vinta da questo punto di vista putin e noi la stiamo perdendo ma la sta vincendo anche sul piano militare ecco perché dico stiamo agli ultimi colpi di coda secondo me non ne stanno azzeccando una ne stanno sbagliando una dietro l'altra i globalisti poi se vogliamo credere sempre tutto fa parte del gioco tutto oramai è stato pianificato i poteri forti vinceranno sempre guarda io non la penso in questo modo perché gli imperi crescono e poi cadono crescono e poi cadono è stato sempre così stiamo in un periodo epocale dove questo impero sta crollando e poi vedere solo le cose dal punto di vista dove tutto nero come se operasse solamente il male mi dispiace io non la penso in questo modo come lavora la luce così lavora l'oscurità l'universo anche secondo una visione del trascendente tende sempre l'equilibrio quindi non diamo mai tutto nulla per scontato è vero che da quell'altra parte non dico è tutto rosa e fiori come anche da questa parte nel mondo occidentale sicuramente non è tutto nero ci stanno tante persone che stanno cercando di lavorare per far sì che si rispettino gli spiriti dei popoli si ritorni a una sovranità nazionale si ritorni a come dire anche un'emissione monetaria interna e tutto questo si deve lavorare e dobbiamo continuare a lavorare fanno anche in maniera politica non solo culturale certo grazie cosimo intanto voglio ricordare magari chi scrive nei commenti live che ecco putin non è la russia insomma non sono la stessa cosa sicuramente putin in questo momento è il rappresentante della federazione russa il presidente della federazione russa però insomma rappresenta un mondo complesso quindi non identifichiamo la persona con quello che ad oggi ancora il più grande stato del mondo il quale come giustamente ricordava cosimo ha vinto diciamo la prima fase di questo grande conflitto in qualche modo speriamo che vinca anche la seconda e la terza fase perché i grandi conflitti si muovono sempre su tre grandi fasi ma magari anche questa rivediamo veramente in chiusura quando daremo la nostra posizione intanto roberto avviandoci verso le conclusioni quali sono i riflessi di questa dedolarizzazione di questo conflitto e quali possono essere i possibili scenari abbiamo detto se sei d'accordo che la prima fase si è conclusa quindi la il primo set usando un linguaggio tennistico oggi va tanto di moda a parlare di tennis si è concluso a favore della russia e in qualche modo anche di tutti i brics e con la russia si sono in questo momento uniti come andrà il secondo set e il terzo secondo te beh innanzitutto mi rialaccio a quello che diceva cosimo prima e correttamente giustamente diceva che il l'economia la la dollarizzazione che mi rialaccio quello che dicevo all'inizio è un un atto di imperialismo è esercitata attraverso la forza militare il fatto quindi oggi che il il conflitto stia dando dei risultati non favorevoli agli all'occidente alla nato gli stati uniti in particolare significa che questa forza militare che fa sì che l'occidente abbia avuto la forza di imporre la dollarizzazione viene messa in discussione lo diceva il grande timoniere il potere nasce dalla canna del fucile e in effetti c'è del vero in questa massima ormai antica oggi gli stati uniti dal dal quadro che emerge dal conflitto in atto con l'ucraina viene fuori che non hanno non possono vantare la superiorità militare e tecnologica noi guardate siamo stati bombardati noi occidentali siamo stati bombardati da 50 70 anni a questa parte di una serie infinita di messaggi in parte espliciti in parte subliminali che incensavano e che dichiaravano la superiorità della tecnologia occidentale sia in tutti i campi compreso quello militare ecco viene fuori oggi che almeno sul piano militare questa superiorità tecnologica non esiste e quindi le ragioni che hanno consentito alle potenze occidentali agli stati uniti in particolare visto che il dollaro ce l'ha in mano a lei e la sua moneta di imporre il dollaro come moneta di riferimento mondiale oggi viene a cadere non vi ricordo che gheddafi è stato ucciso fisicamente quando ha cercato di creare il il dinaro d'oro e quindi loro temono un un processo di dedolarizzazione dell'africa nel caso specifico quindi detto tutto questo di che ci sono oggi le condizioni perché questo processo di dedolarizzazione di cui parlava prima cosimo massaro possa andare avanti non si fermerà perché perché le economie dei paesi produttori di materie prime sono economie più vitali se non solo in termini di produzione di materie prime ma ormai sono diventati vitali anche in termini di produzione in manifatturiere per cui molto probabilmente io credo che questo fenomeno di dedolarizzazione andrà avanti e se va avanti se va avanti sarà un disastro per l'occidente per gli stati uniti in particolare ma anche per l'occidente perché nel momento in cui il gioco regge fin tanto che per un foglio verde un foglio di carta verde qualcuno ti dà qualcosa nel momento in cui tu gli proponi il foglio di carta verde quello dice no grazie voglio un'altra cosa e che in quel momento cessa di essere strumento di valore ancorché fittizio e diventa un foglio di carta quindi ci sarà una caduta verticale di questo cosa succederà succederà quello che quello di cui richiamavo prima cioè le economie dei paesi occidentali nel frattempo destrutturate e demanifatturizzate diventeranno saranno molto deboli perché non hanno non avranno la possibilità di competere anche sul piano della manifattura con quelle dei paesi via in quei paesi emergenti insomma quindi sarà secondo me una situazione che non tra tantissimo tempo vedrà un rivolgimento ed è per questo ha ragione cosimo quando dice che stanno tutti i costi cercando la guerra stanno tutti i conti cercando la guerra perché attraverso la guerra potranno eh creare le condizioni per ritrovare un nuovo accordo una nuova Ialta noi sulla nuova Ialta abbiamo già fissato lo dico così faccio un po' di pubblicità abbiamo fissato una una serata di approfondimento il 21 maggio a Parma e dove parleremo della nuova Ialta e del nuovo ordine mondiale che potrebbe venire fuori grazie Roberto allora avviandoci anche con te Cosimo eh verso le conclusioni provo prima però rispondere a quella domanda così magari mi dai una mano anche tu a rispondere meglio eh perché ci viene chiesto giustamente in questo conflitto mondiale quale sia la posizione di ancora Italia ora io non pretendo di rispondere a nome eh del partito rispondo a nome mio ma insomma come uno che eh tanto milita e tanto militato in questo partito eh innanzitutto ovviamente eh da un punto di vista politico interno non solo per quanto riguarda ancora Italia ma insomma per quanto riguarda l'Italia in generale eh noi non possiamo che eh lavorare sul nostro popolo lavorare su noi stessi cioè cercare di far comprendere al maggior numero di persone possibili quali siano eh i pericoli reali quale sia la situazione reale perché solo eh creando una eh così una massa critica sufficiente eh a far sì che si possa incidere all'interno delle istituzioni si può poi parlare di un vero e proprio programma di una vera e propria strategia però per delinearla così a grandi linee riprendendo il discorso che è stato fatto stasera bene da Roberto eh parlando di come sono nate le Americhe a discapito dell'Europa ecco l'abbiamo detto prima perché la grande finanza apolide a un certo punto ha cominciato a migrare ecco dall'Europa agli Stati Uniti e oggi negli ultimi 70-80 anni ha migrato dagli Stati Uniti ai paesi asiatici in particolare la Cina e eh sta cercando ormai da decenni pensiamo ancora nel 2011 quando eh Berlusconi tentò di eh stringere i rapporti più stretti con Putin con la Russia attraverso il South Stream quindi il gasdotto o con la Libia attraverso anche lì eh l'oleodotto eh diretto con la Libia eh fu immediatamente messo da parte e eh si eh bombardò la Libia si abbandonò il progetto del South Stream insomma si isolò l'Europa quindi questa fase di isolamento dell'Europa avanza si vuole separare l'Europa in modo da tutti gli altri possibili partner quelli africani come diceva prima Cosimo quelli medio orientali che poi sono i nostri partner nel Mediterraneo storici pensiamo a tutto quello che fecero anche PC e PSI in questo senso ma anche democrazia cristiana pensiamo a Moro, al Lodomoro eccetera e soprattutto Russia perché la Russia è la grande potenza di terra del mondo mentre le grandi eh le grandi multinazionali, le grandi banche centrali rappresentano proprio invece il potere finanziario, il potere marittimo ecco si sarebbe detto una volta e l'unico grande Stato che potrebbe opporsi a questo cambio di passaggio di consegne cioè dalla potenza marittima Stati Uniti alla nuova potenza liquida finanziaria marittima Cina è l'unione tra Europa e Russia questo lo sanno tutti lo hanno scritto da Carl Schmitt a tutti l'hanno scritto quindi tutto questo conflitto per quanto ci riguarda insomma guardato da dalla dal di qua delle Alpi ecco guardato dalla terra Cisalpina quale è l'Italia non è altro che una grande manovra per separare l'Europa, Ucraina, Israele, Iran entrano canali di Suez adesso vedremo a breve sicuramente non è altro che un grande accerchiamento in modo a impedire che l'Europa e la Russia possano unirsi e imporre un mondo diverso da quello che invece imporrebbero loro sostanzialmente cambiando gli Stati Uniti con la Cina, con i BRICS. Ecco la Russia in questo momento sta giocando su due tavoli perché da un lato deve far fronte ai poteri liquidi statunitensi che attaccano tramite la Nato i suoi confini dall'altro deve commerciare con la Cina pur sapendo che la Cina potrebbe mangiarsela ma in questo caso la Russia è lì in mezzo e altro non può fare che barcamenarsi. L'unica cosa che potrebbe salvare la Russia perché anche la Russia è in grave pericolo è proprio il soccorso dei paesi europei e l'unica cosa che potrebbe salvare l'Europa è il soccorso della Russia. Quindi ancora Italia direi che ha questa posizione innanzitutto pace con la Russia ripresa dei trattati commerciali con la Russia magari non in dollari non in rubli ma con monete reciproche perché noi dovremmo tornare come spesso Cosimo dice ad avere una nostra moneta e a scambiarla direttamente magari con il nostro interlocutore e comunque insomma questa è la direzione che deve prendere l'Europa. Se l'Europa e la Russia non riusciranno a intraprendere questa strada la conseguenza necessaria sarà a mio giudizio che sia l'Occidente come oggi lo conosciamo quindi gli Stati Uniti con le loro colonie europee che la Russia dovranno cedere al nuovo ordine mondiale che sono i BRICS ma i BRICS non guidati dalla Russia dove la Russia non riuscirà a reggere il conflitto e dovrà per forza piegarsi al potere dei grandi trust che in questo momento stanno non affondando le radici perché loro non affondano mai le radici si stanno appoggiando ecco in Asia ma poi a breve si sposteranno anche altrove. Io credo di aver riassunto in qualche modo quello che potrebbe essere lo scenario della seconda e terza tappa perché la seconda tappa sarà sicuramente lo scontro militare molto più forte di quello che abbiamo visto adesso ma poi la terza tappa sarà la soluzione quindi il bilanciamento dei poteri. Come andrà a finire Cosimo? Beh, come andrà a finire? La sfera di cristallo non ce l'abbiamo, esiste la legge del libero arbitro nell'universo e quindi vedremo in base alle decisioni che prenderanno gli uomini e questi uomini potenti. Hai fatto un'ottima sintesi che è riportata anche nel mio libro, il Bibbio Epocale, appunto dove i globalisti hanno fatto di tutto per dividere l'Europa dalla Russia e ricordo sempre che Putin ha cercato in tutti i modi di unire la Russia quindi con l'Europa. Ai globalisti ha sempre fatto paura un'Europa unita che va dall'estremo est della Russia all'estremo ovest dell'Europa. I gassedotti Putin li aveva costruiti con l'Europa, non li aveva costruiti con la Cina. Quindi anche il legame che aveva Benedetto XVI con il cristianesimo ortodosso, questa è un'altra attesa che sto portando nel nuovo libro. Cioè erano molto vicini, quindi unire i popoli da un punto di vista storico, culturale, spirituale e poi anche economico, monetario, questo faceva enormemente paura e hanno pian piano i globalisti sfilacciato tutti i figli di unione di questa Europa. Perché ricordo sempre che la Russia è Europa. La Russia e il popolo russo non ha le radici storico-culturali del popolo cinese, del popolo giapponese o dell'India. Le radici storico-culturali della Russia e dei popoli russi sono greco-romane e cristiane. Non a caso Mosca viene definita la terza Roma. Dopo Roma, dopo Costantinopoli viene Mosca. Quindi o comprendiamo nel suo insieme quanto sta accadendo e ricordo sempre che storicamente nessuno è riuscito mai a conquistare la Russia. La Russia è una forza, come dicevi tu, militare di terra potentissima e non ce la farà nessuno. Che poi quei potentati globalisti vogliono spostare in maniera egemonica il potere da una parte all'altra, lo hanno sempre fatto. Però ricordiamoci che comunque hanno avuto sempre chi li ha contrastati. Non è, ripeto, questo potere non potrà rimanere in eterno. Per me stiamo un bivio epocale. Quindi stanno crollando. E voglio rispondere a una domanda che mi ha fatto Alberto Arrigoni. Va bene, ne ha fatte tantissime, però ne rispondo a una sola. Come mai Putin aderirà al Trattato Sanitario Internazionale dell'OMS? Mi chiede. Ma guarda, io questa cosa non l'ho vista e mi auguro che non accada. Dove sta scritto se si sta scollegando dai centri di potere sovranazionale. Nel momento in cui Putin, come dici tu, scriverà e firmerà il Trattato dell'OMS, in quel caso lo criticherò come criticherò l'Italia se firmerà questo trattato. Perché significa cedere la sovranità di un Paese, anche da un punto di vista sanitario, a degli organismi totalmente privati che non possono decidere le sorti di un popolo. Quando lo firmerà? Se lo firmerà avrò da criticarlo. Io per adesso mi sto basando su dei dati di fatto, ok? Su quanto ha azionato Putin in questo caso. Poi va bene, Putin è Putin e non è... Obiettivamente parlando, sono andati a votare il 90% della popolazione russa e noi critichiamo dall'Occidente che lì non è un Paese democratico, ma stiamo scherzando, ha alzato la soglia di... come dire... aveva un... non mi sto avvenendo il termine... aveva l'83% dei consensi. È arrivato all'87%. Ma di che cosa parliamo? Della nostra pseudodemocrazia che non è una democrazia ma è noi banchieri dove va a votare appena il 30% della popolazione e questi prendono il potere su quel 30% che va a votare? Magari col 30%. Ma di che stiamo parlando? Ha effettivamente un consenso che sta sempre aumentando e sempre in crescita. Cosa gli possiamo dire? Solo perché noi ci eleggiamo a portatori di democrazia? Con le bombe intelligenti possiamo affermare questo. Ogni popolo si crea il proprio stato e il proprio governo. Gheddafi governava bene la sua Libia. Non avevamo nessun diritto di andare a distruggerla e creare uno stato ora totalmente distrutto. A parte il fatto che abbiamo dato le nostre basi per gli interessi angloamericani e francesi, dove era un diretto fornitore dell'energia elettrica, cioè dell'energia nei nostri confronti Gheddafi. Cioè ci siamo tagliati, dati la zappa sui piedi noi stessi e con tutti i politicanti che hanno governato questo paese, all'epoca di Gheddafi soprattutto con Napolitano che volle fare questo. Quindi come dire, io non dico che è tutto oro quel che luccica, ma cerchiamo di sfruttare le cose che attualmente diventano positive. Anche su Trump si è detto peste e corna. Però effettivamente quando arrivò Trump, io, fa parte anche dei poteri forti, però effettivamente per quattro anni le guerre erano cessate. Arriva Biden, che non conta un emerito puntini puntini, perché sappiamo che governano i globalisti e Biden è solamente una questione di facciata, le guerre non si sono contate più e quindi stiamo sulla soglia nella terza guerra mondiale. E concludo, ma non è che per caso un'altra delle motivazioni per scatenare un conflitto globale è quello che poi con uno stato di guerra non si andrà nemmeno più a elezioni negli Stati Uniti d'America? Chissà, perché se vanno a elezioni è sicuro che perde Biden. Ma tu guarda un po', non sono riusciti nemmeno a posizionare un altro individuo al posto di Biden. Ma ci rendiamo conto a che livello stanno questi globalisti. Hanno dovuto ricollocare Biden. Cioè, quindi, come non facciamo a evidenziare il fatto che stanno veramente alle battute finali e stanno commettendo errori uno dietro l'altro? Scusami, Arturo. No, no, figurati. Intanto devo correggerti perché anche Biden è il presidente più votato nella storia degli Stati Uniti d'America. Nonostante non abbia magari quella capacità oratoria che ha Trump, ha preso molti più voti. Alcuni magari erano un po' elettronici, però in qualche modo li ha presi. Ridiamoci su, Arturo, che meglio. No, però poi lo dico così per strammatizzare un po', però per dire ai puristi che magari anche giustamente sono molto attenti e criticano ogni mossa che fa, un leader politico, addirittura si vanno a indagare anche le vite private, eccetera. D'accordo, però bisogna anche rendersi conto che una cosa è guardare e criticare, un'altra è governare. Sono due cose molto, molto diverse perché tutti sanno, o tutti sono, tutti coloro i quali si interessano di qualcosa sanno come si fa a risolverla. Dopodiché entrare in campo e risolverla significa ben altro perché tutti noi quando guardiamo una partita, non so, Italia-Brasile sappiamo che per vincere la Coppa del Mondo bisogna fare un gol in più del Brasile, benissimo. Però dopo entrare in campo e fare veramente un gol in più del Brasile non è uno scherzo, non è una cosa molto semplice. È ovvio che dovrai dare una mezza gomitata, ti sporcherai di fango perché cadrai in terra, poi ti rialzerai, cercherai anche di stringere la mano all'avversario in modo che non si incattivisce poi troppo, poi torni sotto, cerchi di far gol. Insomma, è molto più complesso governare un paese che guardare dal divano e fare delle critiche. Diciamo che Putin è al comando non dell'Honduras in questo caso ma della grande federazione russa la quale è potente anche perché al suo interno ci sono grandi poteri, grandi forze che si muovono e lui deve in qualche modo armonizzarle verso un obiettivo comune. Ora, è difficile all'interno di un partito piccolo come il nostro armonizzare tutte le persone che ci sono al suo interno per portarle tutte a lavorare verso un obiettivo comune. Provate a immaginarvi a essere il presidente degli Stati Uniti o della Russia, insomma, di sicuro qualche cosa dovrai concedere al tuo nemico per ottenere poi invece dei vantaggi. Quindi insomma, la situazione direi che può essere considerata ben più complessa di quello che magari a volte può sembrare guardando da fuori perché uno dice come lui che comanda potrebbe fare quello che vuole, ma non è proprio così. Intanto credo che siamo arrivati in chiusura, abbiamo fatto un'oretta, abbiamo approfondito un pochino questo aspetto, sicuramente abbiamo ribadito l'importanza della moneta all'interno della vita degli Stati e soprattutto all'interno dei conflitti mondiali. In chiusura voglio ricordare il bivio epocale, il libro che uscirà a questo punto la prima o seconda settimana di maggio, il nuovo libro di Cosimo Massaro e ringrazio Roberto Antoniarelli, dirigente nazionale di Ancora Italia, responsabile del Dipartimento Economia per aver organizzato questi incontri, spero ce ne saranno altri perché i temi economici è sempre bene affrontarli, approfondirli perché noi spesso li diamo per scontati ma è importante invece far giungere questi temi al maggior numero di persone possibili. Grazie Roberto. Grazie a voi. Grazie Roberto, grazie anche a te Cosimo che ti colleghi sempre dalla tua cripta di resistenza e così ormai l'abbiamo ribattezzata, infatti la volta scorsa ti hai ricollegato da un posto diverso, non mi è piaciuta la trasmissione, non l'abbiamo fatta. Adesso invece che ti sei collegato dalla tua cripta, quella diciamo cos'è, è un bunker anti-atomico perché tu parli parli di guerra, poi alla fine... Sì sì, mi sono fatto un bunker anti-atomico diciamo. Ti sei fatto un bunker anti-atomico, da lì non esci più. Il libro lo presenterai solo dalla tua cripta... Sì, guarda, dovrei dire invece... Partirò in effetti il 17 maggio per un tour dal centro e nord Italia, tra cui c'è anche una tappa da te e non vedo l'ora appunto di incontrare tante belle persone per incontrarci, abbracciarci e parlare di persona. Io ti ringrazio di cuore per avermi invitato e per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto cercando di svelare le dinamiche che ci stanno dietro con i nostri anche diversi punti di vista. Un abbraccio a tutti. Grazie Cosimo per ulteriori approfondimenti. Ovviamente il grande... no, il bivio epocale, scusami. Il bivio epocale. Il bivio epocale, edito da Jingko, ho detto giusto Jingko perché è un editore difficile già pronunciare di Cosimo Massaro. E poi con la prefazione del caro amico Paolo Borgognone, uno storico importantissimo. La prefazione del caro amico Paolo Borgognone che sarà presente il 24 maggio quando faremo questa presentazione anche a Brescia, lo farete insieme. Quindi avremo sia l'autore del libro che della prefazione. Ricordo a tutti voi di diffondere il più possibile i nostri video. Siamo in perpetuo shadow burning, come si dice, di mettere un mi piace e di passarlo, di consegnarlo a tutti i vostri amici, soprattutto quelli che magari sono più interessati al campionato di calcio e non si rendono conto invece di vivere un grande momento storico di cui perlomeno è importante interessarsi. Grazie ancora a tutti voi e buona serata. Grazie a tutti.